Ma no, ma no, come direbbe Sabine, ma no, ciao, una tira passeggiata tranquillissima in montagna con la speranza di trovare qualche porcino, ma se non altro... Remoto, speranza remotissimo Esatto, però se non altro siamo venuti per trovare i chiodini e come al solito il nostro cameraman, cioè lui, colui che sta riprendendo Adesso vi farà una ripresa di una distesa di carini Una distesa, non esagera Vabbè, però... vai, vediamo Riproduci Però se c'è paura di una fotografia Gli devo fare anche una foto Vai, ciao Bene Vedi, dimmi che è ta Dimmi Quindi tutto Dimmi tutto E niente, noi ci facciamo questi altri chiodini Alcuni li abbiamo raccolto per metterli sotto l'olio Altri per il signor Arzi e famiglia E comunque ci lasciamo... Oh, c'è salamandri, Daniele Ciao salamandri E guarda, bello, bellissima Hai visto? Sali Salamandri Te l'ho detto che andavo a prendere i guanti, ma Vai, vai, non ti fa niente Mi prendo io questi Dici Guarda, ci stanno certi chiodini qua incastrati dalla fine del mondo Sì, sì, pure questi qua Vedi Questi qua dietro, guarda qua Pure questi, vedi Quest'altri Dici Dici Sì Sì Allora tu Non ti piace Sì Sì Stai smontando la pianta Stai smontando la pianta E' paura delle salamandre, ti fanno schifo Dani! Ciao Caetano! Che bel po', senza farlo, la natura è la cosa più bella, rispettarla sempre, rispettare i boschi, bella fresca, bella fresca! Sì! Sì! Riricci